vediamo questa guido quinto sesto no vabbè quinto dai quinto ci sta primo nonno ultima nona 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 l'ultima bianca sei troppo carina però no annuncia quarta vicino al marito dai ottava settimo a me piace terza terza sesto e se non c'è lele chi mi metti no c'è marco il secondo vabbè per prima per prima c'è nonno libero bella questa classifica mi piace ci piace approvata 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 non 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 non